L'olandese non rientra più nei piani del Manchester United e potrebbe tornare in Italia, non è da escludere un suo approdo in nerazzurro.l'esperienza con il Manchester United di Zirk Zee e potrebbe terminare dopo nemmeno un anno. L'olandese, arrivato in Inghilterra in estate, non ha mai trovato molto spazio e per questo motivo si parla con insistenza di una sua partenza durante il calciomercato invernale. Una ipotesi da tenere in considerazione anche perché il tecnico Amorim non sembra intenzionato a confermarlo fino al termine del campionato. Una situazione che apre al ritorno in Italia e sono diverse le squadre pronte a fare un pensierino. La Juventus in questo momento sembra essere leggermente in vantaggio. Ma attenzione alla possibilità di un passaggio all'Inter in una operazione sicuramente molto complessa oltre che di difficile attuazione. Grazie a tutti! Rosario D'Angelo E con questi soldi si va a prendere magari un bel centrale di difesa giovane, ma con esperienza in Europa, insomma, una ipotesi di calciomercato che ha ricevuto diversi no, ma anche qualche sì, come precisato in precedenza. Si tratta di una provocazione più che una ipotesi che possa trasformarsi in realtà. La situazione del Manchester United rende difficile ipotizzare un Turam con la maglia dei Red Devils e per Zirk Zee l'Inter non è assolutamente una priorità. Vedremo comunque cosa succederà in futuro e quale sarà il futuro dell'olandese.